Dov'è la vita che abbiamo perso vivendo? Dov'è la sapienza che abbiamo perso con la conoscenza? E dov'è la conoscenza che abbiamo perso con l'informazione? Sono tre domande profonde, spiazzanti, le poneva un grande poeta e scrittore inglese, Thomas Eliot, del Novecento. Meriterebbero una conferenza, però non vi spaventate perché non ne sono all'altezza, quindi non c'è nessuna conferenza. Ho citato Eliot perché voglio più semplicemente ricordare come si può essere travolti dall'affanno del vivere e perdere il senso della propria vita e si può inseguire la conoscenza e smarrire la sapienza. E infine a un livello ancora più basso si può perdere la conoscenza, anche la conoscenza facendoci travolgere dall'eccesso di informazione, dalle notizie fine a se stesse. Un antidoto a questa orgia di informazioni fine a se stesse, un antidoto come recita lo spot di retroscena, cioè un antidoto ai mezzi di distrazione di massa, lo può fornire il teatro. Certo, un teatro che non si ferma però alla fenomenologia, ma cerca di penetrare la realtà. C'è una coppia di artisti che ogni volta che fa teatro accompagna lo spettatore in un viaggio fatto di emozioni, di poesia, di verità, verità spesso scomode, sconvolgenti, però sempre con l'obiettivo di trascendere il puro e semplice dato di cronaca per entrare appunto, per penetrare la realtà. A loro piace così tanto raccontare in vari modi che hanno fondato anche la Casa dei Racconti. Oggi io ho il piacere di ospitarli entrambi nella casa studio di retroscena e sono Francesca Zanni e Duccio Camerini. Salve. Allora, volete provare voi a rispondere alle domande di Elliot? Mamma mia, ripetimela però. Un compito più semplice. Domanda di riserva. La domanda di riserva. Partiamo dall'ultima domanda di Elliot, perché le prime due sono veramente, insomma, ha probabilmente uno spaccato incredibile. Sì, questa cosa che dicevi tu dell'orgia delle informazioni, no? Mi fa pensare ad un filosofo che entrambi amiamo molto, che è Hillman, che parla proprio di questa, come la definisce lui, proprio l'intossicazione ermetica. Cioè siamo talmente intossicati e bombardati dalle troppe informazioni che probabilmente navighiamo spesso soltanto in superficie e ci perdiamo un po' il senso vero di quello che... Della conoscenza. Della conoscenza, sì, esatto. Volete provare voi a dire sempre, per chi non vi dovesse conoscere, chi siete, che cosa è la Casa dei Racconti? Cominci tu? No, tutto. Ah, comincio io. Allora, cominciamo da che cosa è la Casa dei Racconti, va? È una compagnia che ormai ha 10, 12 anni. E' nata appunto 12 anni fa e lavora sul teatro di narrazione, ma un teatro di narrazione che cerca di non essere però soltanto il racconto, il puro racconto e il contatto diretto con lo spettatore, anche fisico. Cerca anche però di sperimentare dei linguaggi diversi, dei linguaggi nuovi, almeno per noi, in quanto compagnia di teatro di narrazione. Cerchiamo di contaminare, cerchiamo di contaminare il teatro con la letteratura, con altre arti, con le immagini e cerchiamo di tirare fuori da tutto questo un distillato che poi quando riesce è uno spettacolo più o meno riuscito ma soprattutto c'è una verità che magari ci tormenta e che ci spinge a portare avanti questa attività. La curiosità è da dove è nata questa esigenza, perché lavorare in questo modo, perché creare questa sorta di stabilità, se vogliamo. Quando si pensa alla casa, si pensa a mettere un po' delle fondamenta. Guarda, ti dovessi dire, quando è nata la Casa dei Racconti c'era una gravissima situazione di crisi nel teatro italiano. Mi sembra che... Non è finita. Mi sembra che in 12 anni non sia cambiato molto, forse è addirittura peggiorata. Quindi ce ne sarebbe da fondare un'altra. No, nel senso che credo che... Ecco, hai detto giustamente, la Casa è una stabilità. Credo che... Tu ci hai definito artisti, grazie, insomma, delle persone che fanno questo mestiere, delle persone che lo vogliono fare, lo vogliono fare bene, cercando di interrogarsi sul senso di quello che portano davanti a un pubblico. Credo che lo debbano fare con libertà, con una libertà interiore, morale, molto importante. E così ho citato Goethe contro Elio. Vediamo la gara, cominciamo. Però, secondo me, è importante essere liberi. E dato che oggi, veramente, io ho molta sfiducia nei confronti della produzione. Si dice che il teatro italiano va male perché ci sono tagli al FUS. Io penso che i tagli al FUS siano uno dei problemi. Il teatro italiano va male perché si pensa solo a scrivere commedie, con tutto il rispetto per le commedie, ma non si può solo concentrarsi sul far ridere e poi manca un apparato fondamentale del teatro italiano che è la produzione. Ci sono dei bravi registi, dei bravi attori, ma mancano i produttori. Quindi avere in qualche modo una stabilità di questo tipo, dei punti di riferimento, diciamo, ben precisi, vi dà la possibilità di lavorare, di essere liberi anche nelle scelte artistiche, insomma, di scegliere il teatro che fate. Esattamente. Io volevo provare a fare questo gioco brevissimamente, cioè, gioco per modo di dire, enunciare alcuni punti fermi della vostra poetica e del vostro modo di intendere il teatro. Poi, se mi sbaglio, mi corrigerete, insomma, come diceva... Ora però vanno avanti. Lei? Ecco, sì, sì, ma vi potete anche interrompere, intercambiare, insomma, a cavallare, come vi pare. Se volete precisare, poi mi interrompete. Allora, teatro volutamente popolare, cioè far arrivare la cultura in basso, non è una frase che mi piace molto questa. Sì, ma penso che sia... Scusa, No, li annuncio tutti. Un teatro spogliato che parli della vita, le luci, la scenografia, sì, vabbè, però se non avessi l'attore, la parola, non sarei nulla, mi venirebbe da dire, parafrasando la lettera ai Corinzi di San Paolo, il famoso inna l'amore. E poi siete appassionati agli ultimi, i reietti, agli outcast. Non so se ho detto una serie di cose, perché mi guardi... Sì, sì, sono tutte giustissime. Tutte vere, ma sai, teatro popolare, proprio nel senso, quello che secondo noi, credo, debba proprio essere il teatro, cioè non può essere un'arte d'elite, assolutamente. Purtroppo, appunto, spesso lo è, dico una cosa veramente la prima che mi viene in mente, non a tutti è concesso proprio l'accesso magari in un teatro a causa del prezzo del biglietto, che è una cosa che secondo me è veramente spaventosa, perché magari ci sono delle persone che devono fare delle scelte, cioè operare una scelta, io in una settimana posso andare a vedere solo uno spettacolo, perché non ho i soldi per entrare nei vari teatri. E' tutto quello del cinema che costa di meno. Oppure sta davanti alla televisione, nel senso che, appunto, c'è una scelta quasi obbligata. Discriminante. Discriminante, popolare, nel senso che, appunto, dovrebbe essere un'arte che arriva a tutti, proprio, e che parla soprattutto anche di cose che possono interessare proprio il popolo, cioè le persone. Il fatto di parlare dei reglietti, o di persone che sono un po' Ai margini. Ai margini, sì. Probabilmente perché, almeno personalmente, parlando di un microcosmo, cioè di qualcosa che può essere un problema, o un, appunto, qualcosa che riguarda le singole persone, io riesco meglio a parlare anche del macro. E quindi... Parti da una storia particolare, diciamo, anche ai marginali, se vuoi, però per centrare una questione, invece, un nodo, una problematica che riguarda, molto più profonda che riguarda tutti. Duce, volevo chiederti questo. voi siete una coppia, non solo nell'arte, ma anche nella vita, non è una domanda legata al gossip, perché sai benissimo che ci sono poche certezze nella mia vita, e in questo programma, una è che il gossip non ci interessa, se no ricadiamo nell'errore iniziale di pensare all'informazione, di perdere la conoscenza. Però volevo sapere, quali sono i vantaggi e gli svantaggi nell'essere coppia nella vita e nell'arte? Menomale che l'ha fatta a te questa cosa. Non lo so, non lo so perché non... Bah, perché insomma, noi poi siamo sposati da molti anni, insomma da un po' di anni, siamo sposati da dieci anni, quasi come la casa dei racconti, quindi in fondo onestamente ho avuto sì in passato così dei fidanzamenti tra virgolette artistici, però diciamo che non avevo mai avuto una collaborazione così stretta su alcuni progetti per noi importanti, come può essere stata la festa dei racconti, quel festival di narrazione che è stato il primo in Italia e che Francesca ha portato avanti per tanti anni. Quindi diciamo che incontrarci, parlare di un progetto che si sta nascendo, delle ansie, delle domande, dei dubbi, tutto questo, devo dire, mi è sembrato molto naturale farlo con lei. Comunque siamo sposati da otto anni. Ah, siamo sposati da otto anni? Non da dieci. No, però siamo fidanzati. Lui ovviamente intendeva l'unione, non quella solamente, diciamo, della celebrazione, ma insomma l'unione dei cuori. Noi siamo anche abbastanza indipendenti, nel senso che poi ognuno scrive le sue cose. Sì, so che ci sono due filoni anche diversi che in qualche modo poi seguite. Sì, esattamente. Quindi in realtà non c'è questa simbiosi che sarebbe forse anche troppo, nel senso fare tutto insieme. Però la possibilità di confrontarsi, sì. Quello assolutamente sì. E insomma, quando... In negativo e in positivo, come in tutti i mestieri, credo, no? Quando poi lavori insieme, magari porti anche dentro casa le tue ansie, quando sono ansie, sono ansie, quando sono belle notizie, cose positive. Quando sono notizie feconde, altrettanto. Grazie a tutti.